Stefania, iniziamo a parlare di te, della tua realtà, del tuo studio e poi andiamo nel dettaglio di questo progetto che porti oggi ad Archie Energy. Va bene, sono Stefania Caluini, ho due lauree, una in architettura e una in urbanistica, quindi il mio percorso professionale inizia a Venezia ancora parecchi anni fa. Ho aperto lo studio nel 2000, nel paese dove abito, e ho fatto varie esperienze anche professionali di corsi, di aggiornamento. Principalmente il mio studio si occupa di bioedilizia e di progettazione architettonica, costruzione di casi in legno e materiali innovativi. Ultimamente ci siamo molto interessati anche alla progettazione, sempre con attenzione agli impianti. Ho fatto un corso molto importante che si chiama il corso CQ, una realtà a Verona veramente innovativa rispetto al resto d'Italia e ci ha formato come tecnici e anche come imprese, anche per affrontare tutte le tematiche di problematiche del cantiere che ci sono adesso. E ho sentito di farlo appunto perché vedevo che spesso a fine cantiere nascevano molti problemi, o ponti termici, oppure, non so, infiltrazioni. Quindi con questo corso mi ha aperto una visione e adesso ho cambiato proprio il modo di progettare. E tra l'altro, secondo me, anch'io sono entrato in contatto con CQ, scusate, ho conosciuto questa realtà, permette di risparmiare. Cioè, in realtà, all'inizio sembra quasi un costo aggiuntivo, un po' come una piattaforma di progettazione. Poi, dati alla mano, ci si rende conto che nel processo di progettazione si risparmia. Però prima di andare a parlare del progetto in questione, volevo farti una domanda. Visto che hai parlato di architettura e urbanistica, citaci qualche tuo maestro, dai, del passato, qualche... Il maestro mio del passato, Aldorossi. L'avrei detto? Ho fatto la tesi. È stata la nuovissima, è il teatro del mondo. Sì, sì, a Venezia, e ho fatto la tesi con il suo assistente, Gino Malacarne, perché Aldorossi era appena morto, purtroppo. Purtroppo su Lago Maggiore. Eh sì, ho seguito anche dei corsi suoi ed ero incantata. Cioè, io fondamentalmente sono un amante dell'architettura, proprio innamorata. E seguire le lezioni a Venezia di Aldorossi non è da tutti, quindi... Mentre parlavi, ti giuro, quando hai detto architettura e urbanistica, ho detto Aldorossi. Andiamo nel dettaglio... Il libro delle città di Aldorossi è il più bel libro di urbanistica mai scritto al mondo. Bene. Allora andiamo a cercarlo, noi di Archie Energy. Sì, assolutamente. Senti, parliamo del progetto in particolare di oggi. Che cosa porti ad Archie Energy? Allora, porto una villa unifamiliare a Zevio, per sei persone. Per dare qualche dato, così capite anche un po' la grandezza della mole di questa villa, sono 3.000 metri cubi di casa, per quasi 750 metri di piano terra, coperti su tre piani. Ma la caratteristica fondamentale di questo progetto è che è precertificata Minergy. Sono pochissime in Italia, stanno appunto prendendo un piede un po', infatti il corso CQ ci ha fatto anche, ci ha immesso in questo canale della Minergy. e la caratteristica è che è un label svizzero, dove loro ti danno delle caratteristiche che la villa deve essere conformata. Per esempio, un involucro di rizzo molto spinto, abbiamo un cappotto da 23 centimetri, abbiamo la fibra di legno del tetto da 43 centimetri, ma soprattutto la parte impiantistica è super performante, innovativa. Cosa avete previsto? Abbiamo previsto una pompa di calore, che sono quasi 3 metri per 3, già lì la mole, integrata però con la caldaia a gas, pannelli fotovoltaici, pannelli solari. La cosa innovativa è che c'è una centralina che a seconda della temperatura esterna e della temperatura interna che vogliamo mantenere nella casa, decide se far andare o la pompa di calore o il gas. E ho sempre monitorato i costi. Mi dice, vai con il gas perché risparmi, non so, tot di kilowatt o di soldi, proprio anche in soldoni. Quindi è anche un discorso domotico, di gestione di piattaque? Sì, c'è una domotica molto pesante, anche pesante nel senso buono del termine, che è impegnativa. E la cosa anche di questa villa che mi ha permesso di, innanzitutto, è un processo di cantiere vero e proprio, io divento il direttore di questo processo. Mi sono avvalsa di molti collaboratori, da tutti i campi, perché da sole è impossibile. E ho capito anche, già in fase di progetto, perché prima di iniziare il cantiere avevamo già tutte le ditte, abbiamo fatto anche degli esami per le ditte, non sono state scelte a caso. È stato fatto proprio come un esame di università con un test. E anche per i collaboratori, tutta gente che ha fatto corsi CQ, quindi preparati, scoordinati sempre appunto dal direttore del processo, che non è un direttore di cantiere, è diverso. Cioè deve, è proprio, l'edilizia diventa, il cantiere è un processo, a fasi. E in questa fase ho deciso tutto a tavolino prima, anche la parte impiantistica, e mi sono accorta che essendo così impattante e pesante, dovevo decidere anche l'arredo. E allora entra in gioco la mia collega, l'architetto Tosco, che anche lei sta svolgendo una parte fondamentale per lo studio della progettazione non solo dell'arredo, ma anche dell'illuminazione, perché la casa comunque avrà un effetto scenico non da poco, e quindi mi sono avvalsa anche della sua collaborazione. E allora adesso sentiamo il suo parere, c'è da dire una cosa, che la liaison tra la parte energetica e quella, diciamo, arredo, poi la risultanza finale, l'illuminazione passa anche per questo. Quindi chiediamo subito a Nicoletta, quanto è stato difficile inserirsi in un processo così preprogrammato, dove ogni diseconomia viene bacchettata sulle dita? E in realtà il ruolo dell'architetto dovrebbe essere anche quello storico che conosciamo, quello di progredire per rettifiche a volte, per aggiustamenti. No, anch'io sono un progettista che ha frequentato il corso CQ, e quindi mi inserisco perfettamente nel processo edilizio così strutturato, in un processo edilizio così proprio strettamente pianificato a tavolino. È comunque complesso, è un lavoro molto complesso. Io sono uno degli orchestrali che Stefania sta dirigendo. Ci stiamo consultando costantemente su ogni scelta, su ogni finitura. Io seguo gli arredi, ma seguo anche le finiture. Cerco di non far soccombere l'involucro edilizio agli impianti, perché con degli impianti così importanti il rischio è quello. Un involucro edilizio già di per sé importante, con doppia altezza, altezza di 8 metri interne nel salone centrale. Valorizzare l'involucro attraverso la luce appunto. Sono tutti elementi di cui devo tener conto e devo coordinare questo assieme anche alle esigenze del committente. Effettivamente quando poi entrano in tanti in cantiere non deve essere semplici gestirli. Allora, un aneddoto brevissimo di questo lavoro in itineri, mi sembra di capire? La cosa più divertente è stato il primo impatto con gli impiantisti. Il primo quarto d'ora era un succedersi di no. E nel progetto è sempre così, no che poi diventassi vero. Sì, poi arrivo io e dico no, dai calma, cerchiamo di mediare sia uno che l'altro. Grazie. Grazie a voi. Grazie a voi.